Viviamo un tempo difficile nel quale la Chiesa continua ad operare per il bene comune, moltiplicando le azioni a sostegno di poveri, famiglie, profughi, enti e associazioni. Ciò è possibile anche grazie alle risorse dell'8x1000, investite in opere di carità, culto e per il sostentamento del clero. Tutti i contribuenti possono dare l'8x1000 alla Chiesa Cattolica, anche chi non fa la dichiarazione dei redditi. Questo però non tutti lo sanno. C'è un'intera categoria, soprattutto dei pensionati, parliamo di 10 milioni, in cui soltanto una piccola parte firma per qualcuno, lo 0,1%. Di questo il 57% l'anno ha firmato per la Chiesa Cattolica. Spesso ci sono anziani che non firmano perché hanno problemi a portare i documenti allo sportello. La CEI ha avviato un progetto per raggiungere tutte queste persone, un progetto che chiama in causa le parrocchie. Sono quella porzione di Chiesa che hanno l'effettivo primo contatto con le persone. Cioè io vado in parrocchia, non vado in diocesi. Come il cittadino non va al ministero, va al municipio. Per cui la parrocchia è la prima che è in grado di intercettare i propri parrocchiani. La parrocchia è chiamata a coinvolgersi per arrivare alla gente, raggiungendo le persone a casa o destinando uno spazio parrocchiale, quasi fosse una succursale di un CAF. Le parrocchie si dovranno attrezzare in modo che avere dei volontari che hanno il compito di ridurre la burocrazia che divide la persona dalla consegna del CUM. Per fare questo la CEI mette a disposizione un form online a cui aderire per essere aiutati in questa nuova avventura. C'è un sito che è www.unafirmaxunire.it e si iscrivono tranquillamente. Se hanno dei problemi, in alto sulla sinistra c'è un numero di riferimento per chiedere l'assistenza.